Ha fatto fare una visita al figlio di 8 anni, d'età appena, e ha scoperto che è una vagina. Si chiama Leon Owen, è una mamma ed è rimasta scioccata dalla diagnosi dei medici che hanno fatto per quanto riguarda il riscontro che hanno fatto alla creatura nata da questa bellissima donna, riscontrando appunto una rara malformazione che porta ad avere entrambi gli organi genitali. Owen si è atturbato non poco a Leon, a tal punto che la donna ha avuto un aborto spontaneo del feto di 3 mesi che aveva in grembo. Il bimbo ha uno sforato bifido che ha provocato una malformazione tale da rendere il suo apparato genitale più simile ad una vagina che ad un pene. Il bimbo fin da piccolo ha avuto una serie di problemi di salute, i reni, la mito spinale, probabilmente tutti da ricollegare alla malformazione genetica da cui purtroppo è stata vittima anche nei genitali. La donna ha subito un trauma forte tale da avere avuto bisogno di un sostegno psicologico. Il piccolo aeree adesso dovrà percorrere un percorso chirurgico molto lungo, ma finalmente potrà guarire e potrà avere anche una vita normale e tranquilla. Grazie per l'ascolto, il video termina qua. Un saluto.